La protezione civile della regione Campania ha prorogato la vigente allerta meteo di livello giallo per piogge temporali fino alle 8 di mercoledì 30 agosto. Potranno verificarsi temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associati a grandine e fulmini. Su tutto il territorio si prevedono precipitazioni locali a prevalente carattere di rovescio temporale, venti forti sud-occidentali con locali rinforzi e possibili raffiche. Il programma del Festival Benevento Città Spettacolo si è arricchito anche della presenza dell'ambasciatore italiano di origini sannite all'USACA in Zambia Enrico Di Agostini che presenterà lo show movie Mind. Ascoltiamo cosa dichiarato nell'intervista rilasciata a TV7 e realizzata da Alfredo Salzano. Ci saranno Nico De Vincentis, Antonella Tartaglia Volcini e Matilde Tortora, una storica del cinema. Andiamo a parlare di un tema molto sentito, molto importante e un po' inquietante anche che è la presa del sopravvento da parte dell'intelligenza artificiale su di noi. Lo facciamo presentando un libro, Mind, che io scrissi otto anni fa, perché già otto anni fa avevo questo sentore che saremmo arrivati a questo punto. Da questo libro è stato tratto un demo, un esito a definirlo un cortometraggio, comunque un video di 15 minuti girato in uno dei luoghi di Mind, si chiama così il romanzo, che è la collina di Botticella, che sta tra Campolattaro e Fragneto Labbate. Abbiamo girato lì questo demo perché vorremmo innanzitutto dare la dimensione bucolica barra umana che noi ancora sentiamo nostra, nonostante l'aggressione di tutti questi mezzi elettronici che ormai ogni giorno ci prendono un pezzo della nostra anima. Eppure la nostra anima è ancora lì, sulla collina di Botticella, in questi posti magici del Sannio. Dicevo, questo non è soltanto un cortometraggio ma è un demo perché noi siamo alla caccia di un produttore coraggioso, nonché facoltoso, probabilmente, che ci aiuti a fare una serie televisiva basata su questo romanzo, che io spero vogliate leggere, si chiama Mind, che sta per Multiple Interaction Neuro Device, è un nome sinistro a suo modo, vuol dire mente ma in realtà vuol dire anche un'altra cosa. E quindi speriamo di fare una serie televisiva che stiamo già scrivendo con un sceneggiatore sudafricano, stiamo scrivendo in inglese ma la stiamo anche traducendo in italiano. Speriamo che sia il prossimo passo di questa epopea sannita. Se vogliamo tornare alla nostra storia come sanniti, forse i sanniti possono essere protagonisti di un'altra resistenza del futuro. Nottata movimentata per gli abitanti di Via Umberto I e zona alta del Corso Garibaldi, un locale ha sparato musica ad alto volume e luci sui palazzi limitrofi. La polizia municipale è stata allertata, si deve ritenere che durante la chermessa cittadina ad alcuni venga rilasciata una licenza straordinaria di derogare a tutte le norme. Questa condotta però non è corretta e verrà posta al vaglio della magistratura inquirente, così scrive la presidente del comitato di quartiere Luigi Marino. Infatti da un lato vi è un palese disturbo della quiete pubblica, sfondamento di quei limiti di emissioni sonora indicati anche dal comune nell'ultima ordinanza e dall'altro sembrerebbe invece esservi la manifesta volontà di lasciar fare, di non intervenire, di non controllare ovviamente, di non sanzionare. Tutto questo fa male alla città, avvilisce gli esercenti che si adeguano alle leggi e crea disagio ai cittadini. A chi spesse volte, senza nemmeno leggere nel dettaglio i nostri scritti critica, ricordo che la legge, i regolamenti e le ordinanze non si applicano solo quando fa comodo o quando non creano disagio ad alcuni. Siamo in uno stato di diritto e tutti siamo tenuti al rispetto della normativa vigente. L'onorevole Francesco Maria Rubano si è sentito con Eutimio Mucilli, commissario straordinario di governo, per il raddoppio della strada di collegamento tra Cajanello e Benevento. Il commissario mi ha illustrato e ha aggiornato nel dettaglio circa lo stato dell'iter burocratico in corso, confermando accanto al grande impegno per una grande opera strategica di collegamento lungo l'asse Tirreno-Adriatico, il rispetto del cronoprogramma per quanto concerne le attività del primo lotto di lavori, così ha dichiarato il deputato Sannita. Quanto prima sarà definita l'attività negoziata, per poi stipulare il contratto e vedere l'avvio dei lavori. Per il secondo lotto di lavoro, seguirò le attività relativi alla redazione del progetto, ha proseguito Rubano. Sto infatti seguendo con costante attenzione l'iter di un'opera infrastrutturale tanto importante per lo sviluppo del nostro territorio, proprio come avevo promesso in campagna elettorale, perché mia ferma intenzione è mantenere il patto con gli elettori a riprova della mia grande attenzione per le esigenze del Sannio. Tramite la centrale operativa del 113 è arrivata la notizia dell'ennesima occupazione senza titolo di un alloggio a Cerrarione Libertà e di una rissa in corso tra gli abusivi e i familiari dell'inquilino, peraltro in grave stato di disabilità. Immediatamente una pattuglia della Municipale, capeggiata dal comandante, si è portata sul luogo del misfatto per constatare quanto fosse accaduto. La situazione che si è materializzata agli occhi della Municipale è stata quella di un alloggio devastato, con vetri rotti un po' dappertutto e masserie sparse nelle varie stanze, sia quelle appartenenti al legittimo assegnatario che quelle degli abusivi. Intanto la ragazza, che aveva occupato l'appartamento insieme al marito e due figli, non era più all'interno dell'alloggio, nel quale però era rimasto solo l'uomo. Dopo oltre due ore di conciliabili con l'ultimo occupante abusivo e con l'intervento di due agenti della Polizia di Stato, l'alloggio è stato sgombrato, sequestrato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, unitamente a un piede di porco utilizzato per aprire la porta di Caposcala. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha annunciato che il concerto del rapper Jolier è stato rinviato a causa maltempo a giovedì 31 agosto alle 22 in piazza Risorgimento. Sono in appalto sette lavori di edilizia scolastica per la secondaria superiore sannita per un importo di 23 mila euro circa. Sono stati definiti e formalizzati dagli uffici della provincia di Benevento gli atti tecnici, amministrativi e burocratici per la pubblicazione delle relative gare. Lo comunica il presidente Nino Lombardi che sottolinea come le scadenze delle sette gare di appalto siano ravvicinate, essendo fissate nei giorni che vanno dal 4 al 12 settembre. L'Asia rende noto che martedì 29 agosto gli uffici situati presso la sede di Via delle Puglie resteranno chiusi a causa dell'interruzione di fornitura elettrica comunicata dall'Enel distribuzione e prevista dalle 8.30 fino alle 16.15. L'azienda si scusa per il disagio indipendente dalla propria volontà e specifica ai cittadini che tutti i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento saranno garantiti e non subiranno variazioni. Il presidente della provincia di Benevento Nino Lombardi ha incontrato presso la Rocca direttori una delegazione di italiani in Australia che in questi giorni appaduli per la cerimonia di inaugurazione del monumento in onore degli emigranti italiani in Australia e della pace nel mondo ed omaggiare il ricordo di migliaia di sanniti che hanno lasciato la propria terra per trovare fortuna e lavoro in altre nazioni. Sono davvero grato a Coldiretti scrive Angelo Moretti consigliere comunale di Civico 22 per il grande lavoro di difesa della filiera corta che opera in tutta Italia attraverso quell'ottima infrastruttura che è la fondazione Campagna Amica ma perché lasciare il record della bruschetta più lunga d'Italia nel corso della rassegna Città Spettacolo di Benevento questo l'interrogativo che pone Moretti attraverso la sua pagina social Città Spettacolo è un festival del teatro e delle arti che oltre ad aver dato grande lustro alla città con la presenza delle maggiori opere di artisti sia della tradizione italiana che dell'avanguardia internazionale era anche un momento in cui Benevento si ritrovava immersa nelle sue bellezze per fruire di performance che ci portavano fuori dalla provincia La bruschetta è cosa buona e giusta ma non va fatta dentro questo tipo di rassegne perché in questo modo delega la città al ruolo marginale di mangia, bevi e dormi Città Spettacolo nasce per promuovere e rendere accessibile le diverse arti sceniche per i cittadini e gli avventori da ogni dove altrimenti la si lasci riposare definitivamente in pace nei suoi fasti passati e si chiami questa rassegna di fine agosto in altro modo Mercoledì 30 agosto nell'ambito della 44esima edizione del Festival Benevento Città Spettacolo sarà conferito il premio alla carriera la musica Benevento ideato dallo storico e critico musicale Enrico Salzano ad importanti esponenti del mondo della musica che nel corso degli anni hanno evidenziato singolari caratteristiche la diciassettesima edizione del premio andrà in scena in piazza Federico Torre a Benevento alle ore 21 e 30 dove si alzerà il sipario sulla Kermess culturale istituzionalizzata dal comune di Benevento nel cartellone di Benevento Città Spettacolo gli attestati la sera di mercoledì 30 agosto saranno conferiti ai maestri Erika Verga, violinista, Peppe Fonzo, attore musicista maestra di danza e coreografa Carmen Castiello chitarrista e docente Antonio Iasevoli Leo Giannola, chitarrista Nazareno Civetta, vocalist e strumentista premio alla memoria che ritireranno i figli Margherita e Marco Civetta ed infine la ragazza prodigio Giada Lepore, vocalist il premio alla carriera che vedrà quali testimoni al decezione le massime autorità cittadine sarà presentato anche quest'anno dal giornalista Alfredo Salzano e da Maria Giulia Romano Domenica 3 settembre inizierà la nuova stagione per il Benevento Calcio che ripartirà dal torneo di Serie C Girone C L'esordio per la squadra allenata da Matteo Andreoletti è previsto alle ore 20.45 sul campo della Turris il gruppo di comunicazione TV7 Radio International e Social dell'editore Mario Del Grosso seguirà come sempre l'avventura dei giallorossi con bene quattro trasmissioni l'esordio affidato al riuscitissimo e collaudato format condotto dal giornalista Alfredo Salzano Sport 7 Live che aprirà il suo tour domenica 3 settembre dagli ore 20 dal set dell'Europa Hotel di Vasto Marina l'Europa Hotel ubicato nel cuore di Vasto Marina e a pochissimi passi dalla spiaggia completamente rinnovato e ristrutturato offre viste frontali sul Golfo di Vasto con alloggi climatizzati e di migliori comfort TV Smart Free Wi-Fi il ristorante Alta Marea la beauty spa Altea il design esterno dell'Europa Hotel è un connubio tra modernità e innovazione unico ed indistinguibile che regala sensazioni indimenticabili appuntamento con Sport 7 Live domenica 3 settembre alle ore 20 dall'Europa Hotel per seguire in diretta sui canali di TV7 96 del digitale terrestre in web streaming www.tv7.net sulla web tv e sulla pagina Facebook TV7 Benevento la prima gara del Benevento Calcio impegnato in trasferta a Torre del Greco contro la Turris il Benevento Calcio ha comunicato il dato aggiornato relativo alla sottoscrizione delle tessere per la campagna abbonamenti della prossima stagione sportiva 2023-2024 fai la tua mossa al 28 agosto gli abbonamenti sottoscritti sono stati 2796 è tutto con questa notizia vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone